In un commento mi è stato chiesto di costruire una porta 4x4 con pistoni ed è quello che vedremo in questo video, una porta 4x4 con pistoni funzionante in Minecraft, come quella che stai vedendo a video. Ora la sigla del canale e di saluti a fine video. Perfetto, andiamo ad aprire la cassa e vediamo quali materiali ci servono. In questa zona vedi i blocchi che servono per la meccanica della nostra porta e sono pistone appiccicoso, ripetitore di pietra rossa, pietra rossa, vetro. Un blocco di ossidiana, un blocco di gelatina, miele, una leva e poi un qualunque blocco, basta che non sia di vetro. Poi questi altri blocchi sono quelli che sono strettamente ornamentali. Andiamoli a prendere, sono lana rossa, mattoni di quarzo e il blocco portante di quarzo. Iniziamo! Allora, questa è la dimensione che dovremo occupare. È lunga quattordici blocchi e larga tre blocchi. È profonda due blocchi. In questa zona di quattro blocchi andrà la nostra porta e questo sarà, diciamo, il viale che andremo noi a percorrere. Allora, iniziamo con la posa dei primi blocchi. Contiamo uno, due, tre, quattro, cinque, al sesto ne mettiamo quattro di pistoni appiccicosi verso l'alto. Uno, due, tre e quattro. Poi andiamo dalla parte opposta e posizioniamo i nostri ripetitori di pietra rossa e li portiamo tutti indietro. Questa è un'azione che abbiamo già fatto per la porta del garage in un video veramente recente. Poi, direttamente a sinistra in questo punto, così e a sinistra nuovamente, quindi due blocchi, uno e due anche verso destra, andiamo a unire il tutto con la polvere di pietra rossa. Portiamo su, portiamo su il segnale, poi giriamoci verso l'esterno, posizioniamo un ripetitore di pietra rossa ed un altro in questo punto. E andiamo avanti. In questa fila di blocchi e di pistoni appiccicosi possiamo già anche andare a posizionare i quattro blocchi di lana che vanno a far parte della parte inferiore della nostra porta. Uno, due, tre e quattro. Ho messo una leva in questo punto soltanto per testare che il tutto sta funzionando. Come vedi sta funzionando e adesso dobbiamo andare a riempire altre zone. Cominciamo subito. Prendiamo terracotta magenta, saliamo di un blocco, questo lo distruggiamo e ne posizioniamo due in questo modo. Poi saliamo nuovamente con un altro blocco esattamente in questo punto e andiamo a ripetere la stessa cosa qui su quest'altro lato. Quindi questi li possiamo distruggere e questo è il risultato. Adesso polvere di pietra rossa per portare su il segnale e poi un ripetitore di pietra rossa. Questo lo portiamo indietro di tre ticche, quindi clicchiamo due volte, uno e due. Poi nuovamente pietra rossa in questo punto e poi portiamo un blocco di vetro esattamente in questa zona. Ora andiamo a fare la stessa cosa da quest'altro lato velocemente. Così, uno, uno e due. Poi blocco di vetro in questo punto e la pietra rossa in quest'altro punto. Qua adesso andiamo a posizionare dei pistoni appiccicosi che mi ero tolto posizionando la vana. Ne mettiamo uno in questo punto e uno in quest'altro punto. Nuovamente così, uno e due. Portiamo il segnale di pietra rossa anche sopra il blocco di vetro. Vediamo se adesso funziona qualcosa. Anche questi pistoni stanno funzionando più o meno. Andiamo adesso con il passo successivo. Con i successivi tre semplici blocchi di ossidiana, blocco di gelatina e blocco di miele andremo quasi a completare la nostra porta 4x4. Allora, i blocchi di gelatina possiamo metterli a sinistra, i blocchi di miele possiamo metterli a destra. Li puoi anche invertire, l'importante è che siano 4 di un tipo e 4 dello stesso tipo. Vado in basso e in questo punto metto un blocco di ossidiana, stessa cosa sotto questo blocco di gelatina. Andiamo adesso ad attivare il tutto. E come vedi la nostra struttura incomincia a prendere forma. Disattivo il tutto e andiamo allo step successivo. Completiamo adesso la parte superiore della nostra porta. Posizioniamo un blocco di ossidiana esattamente sopra questo blocco di gelatina e la stessa cosa su questo blocco di miele. Poi andiamo a prendere dei blocchi temporanei, no temporanei, diciamo di un altro tipo rispetto all'ossidiana o al gelatina. Io ho preso questo blocco di mattoni di guarso e creo 5 blocchi. 1, 2, 3, 4 e 5. Porto il segnale di pietra rossa esattamente qua sopra perché adesso devo andare a posizionare nuovamente 4 blocchi di pistoni che serviranno per spingere verso il basso. Quindi siamo allineati rispetto a questa posizione. Ci mettiamo esattamente in questo punto. Ok, sto guardando il blocco della pietra rossa. Quindi esattamente così, ok, in questo modo. Messo il primo, gli altri tre sono più facili da mettere. Ora posso anche già prendere la lana, in questo caso quella rosa. L'ho posizionata e se dovessi andare a attivare la nostra leva, questo è il risultato. Andiamo allo step seguente. Abbiamo quasi completato la nostra porta 4x4. Qui per adesso mettiamo i 4 più 4 blocchi di lana rosa. Dalla parte posteriore disattiviamo il tutto. Andiamo a vedere dove arrivano i nostri blocchi di miele e di gelatina. Esattamente in questi due punti andiamo a posizionare altri blocchi di ossiana. E stessa cosa lo facciamo dalla parte della gelatina. Adesso possiamo incominciare ad abbellire o dare una struttura alla nostra porta. Allora, l'ossiana non ci dovrebbe servire il blu. Prendiamo dei blocchi portanti, attiviamo la nostra porta in modo tale da vedere dove finisce la nostra porta e andiamo a costruire il tutto intorno, come in questo caso. Vado velocemente. Questa zona qui la possiamo riempire anche in questo modo. Qua per esempio a me piacerebbe farla così. Questo lo posso togliere per vedere questa grafica. Questo lo vorrei togliere. Metto un blocco temporaneo. Questo così e questo lo distruggo. Vado dall'altro lato. Vado a costruire la stessa cosa. Sono uno, due, tre, quattro, cinque blocchi. Poi questi li unisco. Questo ne metto uno così. E dov'è quell'altro così. Questi li posso anche rimuovere per adesso. E adesso vado a collegare le leve al nostro impianto. Allora, completiamo la nostra struttura. Innanzitutto portiamo il segnale dove ci interessa. Allora, mi prendo la leva. Vogliamo la prima azionarla in questo punto. Quindi cosa possiamo fare? Allora, tolgo questo blocco. Ne metto un altro in questo punto. Porto il segnale in basso. Metto un ripetitore. L'ho messo esattamente in questo punto. Così la leva attiva questo, no? E scatena il tutto. Quindi di qua dovrebbe funzionare. Perfetto. Vado dall'altro lato. Questa la tolgo. Voglio posizionare la leva in questa colonna. Quindi distruggo semplicemente questo. E porto della polvere di pietra rossa. Così andiamo ad azionare la leva. E anche da questo lato funziona. Allora, mi sto accorgendo che... Allora, questi devono essere messi in questo punto. Qua ovviamente non servono. Poi serve sicuramente uno in questo punto. Perché sennò si porta via tutto. Quindi stessa cosa. Questi non vanno bene. Distruggo e li metto così. Ora posso andare a mettere tutto in attorno. Vediamo un po' che cosa serve. Perfetto. Allora, andiamo a posizionare per esempio del camminamento. Qua così. Poi vediamo, vediamo, vediamo. Qua sicuramente ci serve questo blocco. Altrimenti si porta via nuovamente tutto. In basso, in basso. Qua ci possiamo mettere per esempio anche della... Sì, così. Così, così lo facciamo dello stesso colore. Questo lo chiudiamo. Questo, ma in verità, forse è meglio già. È bianco. Così, così, così. E chiudiamo tutto sopra. Ok, perfetto. Qua lo facciamo rosa così rimane dello stesso colore. Ok, abbiamo chiuso. Adesso vediamo se funziona ancora tutto. Sta funzionando. Io entro, mi giro, chiudo il tutto. Rimane ovviamente questa forma, ma noi ci va bene. Diamo la forma del maialine. Mi ero già preso. Allora, gli occhi del maiale. E lo metto uno qua. Uno qua. E poi la bocca. E abbiamo creato la nostra porta 4x4 con forma di ammurato Minecraft. Fammi sapere se e dove intendi costruire questa porta 4x4 nel tuo mondo Minecraft. Mentre se hai richieste oppure idee di nuove costruzioni, meccanismi, comandi, eccetera, scrivile nei commenti. Se non sei iscritto al canale, fallo adesso, cliccando sulla campanellina ed attivando tutte le notifiche. Poi commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine, dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco. Mentre saluto Marcello e Super Gamer Ida che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento. Ciao! Ciao! Ciao!